vi ho già parlato in un video di volan abbiamo visto teoricamente come funzionano a cosa servono e quant'altro oggi voglio mostrarvi nel pratico qui quindi con me due switch hp e ruba uno da 48 porte 1 8 porte ma la configurazione è praticamente la stessa e vi faccio vedere fisicamente come funzionano quindi ve li mostro eccoli qua come vedete abbiamo lo switch da 48 porte uno switch da 8 porte sempre hp e le ho connessi il classico ponte ho fatto tra i due switch con un cavo di rete mi sono agganciato su una porta qualsiasi col mio computer attualmente non sono configurati quindi è come se fossero due switch e normalissimi vado quindi allorgarmi nello switch inferiore da 48 porte e come vedremo avremo quindi la porta numero 1 utilizzata per fare il ponte con l'altro switch è sempre sulla porta numero 1 e la porta 8 utilizzata dal mio computer attualmente non ci sono configurazioni quindi se andiamo in vlan troveremo che tutte le porte configurate sulla switch saranno sulla vlan di default chiamata 1 numerata 1 a questo punto se noi volessimo fisicamente escludere alcune porte farle diventare parte di un'altra vlan dovremo innanzitutto andarla a creare quindi clicchiamo su aggiungi gli andiamo andare un id o un range di d lo facciamo unico in modo che capite bene scrivo la vlan id 70 e gli assegniamo un nome ad esempio immaginiamo che sia per la telefonia immaginiamo per i telefoni voip il vlan id è un numero che può andare da 2 a 4092 come vi dice sotto io solitamente non è una regola è un consiglio che vi do utilizzo come dd la classe di rete che andrò poi assegnare i vari dispositivi ma solo per avere una semplicità aggiuntiva se andremo a mettere mano successivamente allo switch riusciremo subito a capire a quale vlan appartiene un dispositivo semplicemente dalla classe di rete ad esempio in questa vlan 70 io andrò ad assegnare di dispositivi con ip 192 168 70 20 30 quello che volete se andate a mettere mano successivamente lo switch riuscite facilmente ad intuire a quale vlan appartiene ripeto non è una regola è solo un consiglio che vi do funziona benissimo se uso un'altra classe di rete ma un vlan id diverso quindi clicchiamo applica e a questo punto lo switch saprà che potrà gestire delle vlan nell'id 70 nessuna porta sulle vlan 70 attualmente utilizzata andiamo a selezionarle una ad esempio ipotizziamo che la porta 23 e 24 io voglia dedicarle alla vlan 70 quindi le andiamo a selezionare 23 e 24 clicchiamo edit e gli andiamo a dire che fa parte delle untagged vlan 70 tralasciamo per ora il discorso target ve lo spiego dopo quindi se io clicco applica e salvo la configurazione e andrò mi raccomando a specificare anche in vlan id andiamo sempre sulla porta 23 24 e andiamo a dirgli che di default dovrà utilizzare il vlan id 70 quindi facciamo la stessa cosa applica e salviamo ecco qua a questo punto come vedrete lo switch capirà che quelle due porte per lui fanno parte è brutto da dire ma come se fossero fisicamente su un altro switch se andiamo a selezionare la vlan e 70 lui ci fa vedere che queste due porte sono untagged ok a questo punto vi faccio vedere proprio fisicamente se io andassi a collegare il mio pc sulla porta 23 e un dispositivo qui un dispositivo che potrò collegare a questo punto sulla porta 24 questo dispositivo in questo caso ha ip 192 168 8 1 io volutamente non ho fatto 71 proprio per farvi vedere che il discorso vlan id è a parte dalla classe di rete e mi raccomando lo vado a collegare ok ho connesso il dispositivo sulla porta 23 e il mio computer sulla porta 24 a questo punto se io vado a aggiornare la pagina vedrete che io già non ho più accesso allo switch perché anche se la mia di scheda di rete ha comunque ip 1 classe 1 comunque non riescono a raggiungere lo switch perché come vi dicevo il mio computer essenzialmente non comunicherà con le altre porte dello switch mentre sarà in grado di comunicare con quel dispositivo che ha ip 192 168 8 1 quindi se io vado a cambiare ora il mio ip metterò 8 88 clic ok andiamo a pingare l'altro dispositivo diamogli tempo eccolo qua vedrete che risponde quindi io sarò in grado di raggiungere il mio dispositivo sarà come se fisicamente ho collegato il mio dispositivo su un altro switch e ho collegato quel dispositivo con il p 8 1 su un altro switch quindi ovviamente riesco a pingarlo quindi non pingherò più l'1.1 per ovvi motivi sia per la classe di rete diversa ma come vi ho fatto vedere prima nonostante la scheda rete aveva 1 1 non riuscivo a raggiungere lo switch quindi ora mi riaggancio col portatile su un'altra porta qualsiasi che non sia nella 23 nella 24 arrivato a mettere il p 1 classe 1 e ritorniamo un attimo sull'interfaccia degli switch questo invece è lo switch superiore e andiamo a fare la stessa cosa quindi andiamo in vlan andiamo a aggiungere la vlan 70 ed andremo a associare alla vlan 70 una porta immaginiamo che ne so la porta 4 edit andiamo a dirgli che è untagged sulla vlan 70 su questa pagina come vedete leggermente diversa la l'interfaccia web perché lo switch è proprio hp hp acquisito a ruba come vi ho già detto in un altro video in cui mostro come funziona lo switch e quindi se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra andatelo a vedere quindi seleziono vlan 70 vado sulla porta 4 edit e vado a dire che è untagged applico e vado a fare la stessa cosa sulla sull'idl vlan come vedete l'ha preso automaticamente lo fa automaticamente vado a salvare a questo punto il dispose vado a collegare quel mio dispositivo che che abbiamo mostrato prima sulla porta 4 dello switch superiore ok quindi lo scolleghiamo da qua lo colleghiamo sulla porta come vedete quindi il dispositivo con ip 8.1 è collegato sulla porta 4 switch superiore e con un cavo di rete vado a fare il ponte con lo switch inferiore a questo punto se io vado a riloggarmi solo switch inferiore io in questo caso non posso andare a pingare l'ip 8.1 perché vabbè a parte perché il mio ip non fa parte di quella classe ma se lo andiamo a mettere ve lo mostro non fa alcuna differenza perché perché io sono fisicamente attaccato lo switch 1 inferiore su una porta sulla vlan 1 e non posso comunicare con la vlan 70 ok come faccio in questo caso rimettiamo ip standard 1 andiamo nella dashboard come vedete dall'immagine il mio pc è nuovamente collegato alla porta 12 e sul sulla porta 1 c'è il famoso ponte di cui parlavamo prima ora dovremo andare a dire agli switch che lo switch superiore immaginate qui di vedere lo switch superiore se noi andremo a pingare da una vlan 70 un dispositivo della vlan 70 ma su un altro switch quindi immaginate nella situazione reale che lo switch sia su un altro piano su un altro edificio dove volete devo riuscire a far comunicare tutte le vlan tra di loro mediante un unico cavo di rete che in questo caso è l'uno quindi io cosa faccio vado in vlan vado a selezionare l'interfaccia 1 vado a editarla e vado a dire ok tramite il cavo di rete che fa da ponte tra i due switch andiamo a dirgli che oltre alla vlan 1 dovrà passare eventuali pacchetti che verranno trasportati su un'altra vlan quindi andiamo a dire taggami la vlan 70 sul cavo 1 ok quindi se io vado dal mio computer connesso a una porta untagged sulla vlan 70 e vado a pingare un dispositivo sempre connesso a una porta untagged vlan 70 ma di un altro switch lui non trovandolo in sé va a chiedere a questo punto all'unica porta che farà da ponte che potrà trasferire informazioni taggate della vlan diversa sull'unico cavo che fa comunicare due switch quindi vado applicare la stessa cosa la vado a fare sullo switch superiore quindi sempre sulla porta 1 gli dico ok tutti i pacchetti che trovi sulla vlan 70 puoi ripassarli tramite il cavo 1 quindi andiamo a selezionare nuovamente vlan id 70 selezioniamo la porta 1 andiamo a dirgli che tagghiamo la vlan 70 sulla porta 1 non andiamo in questo caso a modificare il vlan id della porta 1 il mio dispositivo che vi ho fatto vedere prima quel routerino connesso sulla porta 4 che fa parte di un'altra vlan quindi immaginatelo su un altro switch se deve comunicare con altri dispositivi nella vlan 70 nel caso in cui una delle altre porte sia untagged potrà comunicarci come vi ho fatto vedere in inizio video nel caso in cui non trovi alcun dispositivo nella vlan 70 andrà a interrogare la porta 1 perché è taggata quindi tutti i pacchetti che passeranno con tag 70 in questo caso andranno a comunicare alla porta 1 la porta 1 dirà ok comunico con la porta inferiore 1 dello switch inferiore perché anch'essa è taggata ok e andrà a interrogare tutte le porte che faranno parte della vlan 70 in questo caso la 23 la 24 quindi io in questo momento il mio pc connesso sulla porta 12 non può comunicare con quel dispositivo superiore infatti se io mi rimetto sulla porta sulla classe 8 non potrò pingarlo se io rimetto il mio dispositivo sulla sulla porta 24 o 23 perché l'avevamo messo entrambi untagged lo vado a collegare ok l'ho appena collegato arrivato a fare il ping e io potrò raggiungere il dispositivo connesso nello switch superiore sulla vlan 70 quindi il mio pc in questo momento è in vlan 70 con classe di rete 8 8 e potrò quindi come vedete comunicare con il dispositivo superiore nel caso in cui io volessi far comunicare due dispositivi che fanno parte di due vlan diverse in questo modo non potrei farlo o mediante delle regole potremo mettere in comunicazione questi due dispositivi due o più dispositivi mediante il firewall questo è un discorso che vedremo a parte quindi prenderò un firewall ve lo collegherò fisicamente vi faccio vedere come creare la regola e quant'altro il discorso un po contorto sulla carta l'ultima volta ve l'ho spiegato non è semplicissimo da spiegare in un video ho provato a spiegarlo nella maniera più semplice possibile se non avete capito scrivetelo nei commenti chiedetemi ci rifaccio un video ve lo spiego nei commenti non c'è problema anzi ne sono felice se il video ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace attiva la campanellina e iscriviti al canale ciao